Perché hai deciso di candidarti? Cosa hai visto in Chico Zucchi? Conosco Chico Zucchi da tanti anni, mi ha sempre trasmesso la sua dinamicità, il suo volere essere imprenditore e quindi mi ha trasmesso questo valore nel quale comunque mi riconosco e che penso possa applicare anche nell'ambito della città di Crema in modo proficuo. Serve un cambiamento alla città? Secondo me serve un intervento proprio di dinamicità per dare un po' di sviluppo all'economia e far ripartire quelle situazioni che sono un po' bloccate allo Stato. Sono interessata al sociale, sono un medico e quindi l'idea di poter concretizzare qualcosa nel mio territorio mi darebbe una grande soddisfazione con Chico che è molto pragmatico e che ho incontrato anche in precedenti situazioni differenti rispetto a questa penso ci possa essere la possibilità di poter fare qualcosa nel nostro territorio.